il punto di partenza sono stati gli obiettivi che mi ero posto per il 2022 sono partito da quelli che ho raggiunto da quelli che non ho raggiunto quindi vediamoli il primo obiettivo come avete visto è stato fare almeno 50.000 passi e se ciao 50.000 10.000 passi al giorno il 50 per cento dell'anno vediamo subito che questo obiettivo purtroppo non è stato raggiunto infatti se vado qua questo è il mio vecchio telefono che ho cambiato praticamente alla fine del 2022 ma vedete che nell'anno non sono arrivato neanche un mese alla media di 10.000 passi quindi figuriamoci il 50 per cento dell'anno su questo bisogna migliorare questa è la lista e dopo l'obiettivo dei 10.000 passi al giorno c'era quello di entrare a medicina e chirurgia questo invece direi raggiunto a pieni voti ho fatto un video a riguardo che vi lascio in descrizione se volete vederlo in cui ho raccontato un po il mio viaggio fino al test di medicina ho fatto il test di san raffaele poi ho fatto il test della statale che era dopo sono entrato in statale ho raggiunto il mio obiettivo e ora studio medicina testimone anche questa mega pila di libri di anatomia qua e di questo obiettivo sono parecchio soddisfatto il terzo obiettivo della lista era invece lavorare fino a medicina cosa che ho fatto quindi anche questo raggiunto infatti ho fatto il pizzaiolo lo sapete sempre dai video e sono riuscito a lavorare fino a poco prima di iniziare l'università anche perché fare canali youtube e università di medicina tra prendesi canali youtube farlo tipo lavoro e università di medicina più un secondo lavoro sarebbe stato davvero impossibile cioè mi avrebbe precluso risultati per l'università e per il canale troppe cose assieme bisogna dire di no a un certo punto il quarto obiettivo della lista che è proprio questo qua pianificare e riprendere il canale anche questo se state vedendo questo video vuol dire che è andato a buon segno infatti il mio obiettivo era di raccontare il mio viaggio da ingegneria medicina su youtube cosa che ho fatto e voi l'avete apprezzato ci sono stati dei video che avete visto un sacco e a me fa molto piacere la cosa che forse è un po mancata soprattutto nell'ultimo mese di dicembre ma a causa impegni con l'università quindi per gli obiettivi successivi che tra poco vedrete è stata un po diciamo la quantità di pubblicazioni sul canale e un po su instagram ma a quelle ci lavoriamo per quest'anno il quinto obiettivo era arrivare a pesare 75 kg in ottima forma fisica purtroppo come state vedendo qui la prova della bilancia non mente questo obiettivo non è stato raggiunto leggere almeno sei libri questi qua sono i tre libri che ho letto durante l'anno e sono riuscito a finirne soltanto uno che è questo qui the china study molto bello parla un po di dieta e longevità di qual è la miglior dieta per vivere il più a lungo e il meglio possibile che me l'ha prestato un mio amico non è mio tra l'altro glielo devo restituire tra poco questo è l'unico libro che ho comprato io nell'anno e che ho provato a leggere è un libro che parla di scimmie il mio animale preferito ma è molto pesante non mi ha fatto impazzire e l'ho piantato a metà questo invece è il terzo libro ho letto nel 2022 che è un libro che mi hanno regalato per il mio compleanno è molto figo l'ho iniziato ma non l'ho ancora finito il 2022 però è finito quindi a sei libri direi che non ci siamo non ci siamo se contiamo libri letti per passione perché per fare il test di medicina di libri ne ho letti superiamo di gran lunga i sei però quelli non li conto perché sarebbe un po come barare il settimo obiettivo sulla lista è quello di concentrarmi su relazioni importanti cosa che ho fatto è va a toccare una sfera molto privata della mia vita quindi non mi va di parlarne nel video nel dettaglio vi basti solo sapere che è un obiettivo che reputo raggiunto pienamente forse il più raggiunto dell'anno dopo essere entrato a medicina imparare il cinese vabbè questo forse era un po troppo e a un certo punto ho capito che non ne valeva la pena e anche questo non è stato raggiunto adesso vi faccio vedere la schermata del duoling del mio duolingo che giuro ho utilizzato ci ho provato non ho quittato ancora prima di iniziare però ho capito che ci voleva troppo tempo e avevo altre priorità medicina test di medicina youtube eccetera che portavano via tanto tempo e andare aggiungere dell'altro lavoro con imparare il cinese non inutilmente perché non è inutile però non era la mia priorità al momento ho capito che forse non era la cosa più adatta vedete fino all'unità numero due almeno ci sono arrivato infatti so dire a rivederci in cinese che se non erro si dice c'è e anche i numeri i che vuol dire uno a due san c7 pa 8 se c'è qualche cinese che tipo mi può blastare nei commenti e ve ne accetto l'ultimo obiettivo nella mia lista per il 2022 che sto leggendo qua mi confonderò un sacco tra 2022 2023 comunque era one day one hour una sorta di regola che mi era imposto di fissare un'ora alla settimana no matter what in cui dedicarmi a passioni o cose che non c'entravano assolutamente niente con la produttività la cosa che ho capito è che in realtà questo obiettivo non mi sento di dire che non l'ho raggiunto ma ho capito che le passioni forse non è il caso di forzarsi a farle perché non sono più passioni poi se diciamo mi sento obbligato il bello di una passione che rimane passione non dico fai della tua passione al tuo lavoro non sto facendo quel discorso sto facendo un discorso proprio delle cose che si è piacere a fare tutti i giorni che può essere giocare ai videogiochi leggere un libro fare una camminata o fare uno sport il bello sta proprio che le si fa solo ed esclusivamente quando si ha voglia senza nessun obbligo quindi ho capito che forse non è il caso di obbligarsi a farle se no si perde un po' quella magia ma bene ora che abbiamo visto quali sono stati gli obiettivi che mi ero messo per il 2022 quali ho raggiunto quali no quali cavolo sono questi dannati obiettivi per il 2023 ed eccola qua la lista dei nuovi obiettivi che mi sono posto per il 2023 la base di partenza è quella che abbiamo appena finito di vedere ma ce ne sono anche di nuovi il primo è proprio il primo obiettivo che mi ero posto nel 2022 che è camminare 10.000 passi al giorno almeno il 50 per cento dell'anno il secondo obiettivo forse è il più ambizioso dell'anno riguarda medicina mi sono imposto di prendere una media dei voti del 27 su 30 almeno la media del 27 una cosa che ho sempre sognato non ho mai avuto sti cazzi mettiamo negli obiettivi e raggiungiamola ci sto lavorando sto studiando per i primi esami che stanno per arrivare tra parentesi tra poco riprende la serie road to 30 lode il primo video sta per uscire a breve dopo questo in cui faremo il nostro bel viaggio insieme nella sessione sperando anche di motivare non solo me ma anche qualcuno di voi che la segue a prendere sto fantomatico 30 lode anche se l'obiettivo non è proprio il 30 lode ma è almeno una buona media me la sono imposta nell'obiettivo 27 su 30 il terzo obiettivo parte un po da quelli che erano stati gli obiettivi del 2022 sul canale di youtube ovvero di ripartire e alza un po la sticella ovvero 50.000 iscritti sul canale e 10.000 follower su instagram per questo dovrò impegnarmi non poco ma alzare la sticella diciamo che aiuta un po a tenere viva la motivazione proprio questo obiettivo insieme a quello di prima della media del 27 si ricollega in maniera importante a un obiettivo che verrà dopo nella lista e che diciamo è un po il mio punto debole quello che è stato il mio punto debole negli ultimi anni e che forse la causa degli obiettivi che non sono riuscito a raggiungere quarto e penultimo obiettivo della lista arrivare a 75 kg in ottima forma fisica un altro obiettivo ripreso dall'anno prima perché ho detto no cavoli me l'ero imposto e non avercela fatta non averlo raggiunto perché in tanti momenti ho fatto la scelta sbagliata di schippare di cercare delle scuse per non andare in palestra piuttosto che non andare nella mia casa non proprio non mi va giù e il mio fisico è una cosa che non mi ha non mi ha mai soddisfatto pieno ho deciso di non metterlo sporco sotto il tappeto ma di agire basta parole iniziamo ad agire cosa se non la mossa forse più basic di tutte di quella che la gente fa primi giorni dell'anno mi sono riscritto in palestra ormai forse va un po troppo di moda accettare il problema e darlo così per irrisolvibile e imparare a conviverci è vero che non tutti i problemi sono risolvibili però per una cosa come questa in cui il problema è stato trovare delle scuse nei momenti sbagliati detto no sti cazzi non voglio accettarlo voglio attivamente fare qualcosa per risolverlo e per sistemarlo e quello sarà allenarsi durante tutto l'anno l'ultimo obiettivo è proprio il più importante ve lo leggo pari pari anche se questo me lo ricordo è il quinto imparare l'arte della costanza inseguire il proprio obiettivo anche quando non si ha troppa voglia è proprio questo a cui mi riferivo quando vi parlavo della media del 27 e degli iscritti su youtube il mio problema è stato la costanza negli anni ora che con relativa la costanza ho studiato per un anno e mezzo prima per il test medicina e poi per medicina in sei ora con la sessione sono riuscito a fare video e a continuare a farli con relativa costanza per quattro cinque mesi quasi metà anno ho visto i primissimi risultati della costanza che non sono nulla ancora ok mettiamocelo in testa non sono ancora nulla però ci sono questo mi fa ben sperare che mettendoci duro lavoro e costanza durante tutto l'anno anche nei momenti in cui non ho voglia questi obiettivi prima o poi arriveranno spero che questo sia un aiuto anche per voi per chi di voi ha bisogno come me di trovare costanza e motivazione ragazzi abbiamo ancora tutto un anno intero davanti se non l'avete ancora fatto fate anche voi la lista dei vostri obiettivi per quest'anno ne basta anche uno semplice non deve essere per forza chissà che cosa basta avere qualcosa a cui mirare durante le proprie giornate per questo video vi sia piaciuto ci rivediamo tra poco con il road to 30 e lode ciao